Leggini, ciao Leggini! Eccoci a una nuova lettura settimanale. Andiamo subito a vedere insieme che cosa inserbo per noi la settimana che sta per iniziare. Come al solito usiamo i miei tre oracoli, quello che ho appena mischiato è l'oracolo dei registri acascici, questo secondo è l'oracolo delle leggi universali e poi il terzo, che è l'oracolo dei decreti quotidiani. Il nuovo oracolo sta per arrivare, speriamo per luglio, perché me lo chiedete sempre, quindi vi do qualche aggiornamento. Ho voluto che fosse tutto, 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 tutto assolutamente perfetto, non vedo l'ora di farvelo conoscere, ma c'è ancora un pochino da aspettare, ma solo cose tecniche, scatolette, la fine, insomma, veramente bello. Quindi spero davvero che poi penserete che ne è valsa la pena di attendere. Chiudi gli occhi, lascia andare le preoccupazioni, lascia andare i pensieri e immagina davanti a te una lavagna. Su questa lavagna appare un numero. Uno, due, tre. Qual è il tuo numero? Se hai il numero uno, le carte per te del primo mazzetto ti mandano un messaggio. La felicità finalmente bussa alla tua porta. Come fare a riconoscerla guardandoti intorno? Ti renderai conto che hai molte più cose di quello che pensi per essere felice. E infatti la legge di attrazione inizia a muoverti in tuo vantaggio. E la legge del riflesso ti aiuta moltissimo perché quando tu vibri felicità, inizi a vedere tutto il mondo che ti circonda con gli occhi felici. E questo ti porta a vedere quelle piccole cose che altrimenti non saresti stata in grado di vedere. Quindi è fondamentale questa settimana cogliere ogni occasione per coltivare e aumentare la tua felicità. Come fare? Guarda cose felici. Cosa ti fa felice? Non lo so, ti faccio conto gli animali? Guarda dei documentari sugli animali. Cosa ti fa felice? Le vacanze? Guarda blog di viaggio. Cosa ti fa felice? Non lo so, meditare? Fai tante meditazioni. Qualunque cosa ti faccia felice, questa settimana falla perché per la legge del riflesso ti andrà ad aiutare molto. Infatti, questa settimana conoscerai un segreto che potrebbe essere il segreto per la felicità. Tutto quello che accade nella tua vita è perfetto anche quando non ti sembra. Verrai a conoscenza di una notizia importante. Potrebbe essere un amico che ti rivela un segreto, potrebbe essere una conoscenza mistica che giunge a te come un'illuminazione, oppure si accenderà quella lampadina che ti farà capire come affrontare e risolvere quella situazione che ti sta tanto a cuore. Tieni orecchie, cuore e menti aperte e finalmente saprai. Seguimi fino alla fine che alla fine facciamo il recap fondamentale. Mazzetto numero 2, 1, 2 e 3. Allora, mettiamo via che se no voi sbirciate. Lancio del desiderio. Questa settimana potrai lanciare un desiderio. Abbiamo visto che è fondamentale saper esprimere i desideri che si realizzano. Infatti, un desiderio ben formulato è un desiderio realizzato. Questa settimana sarà fondamentale il lavoro sui desideri. Perché? Perché se no la mente si insinua e inizia a farti dubitare, tentennare, avere paura che possano realizzarsi. Quindi sotto nell'info box ti metto i link agli ebook desideri che si realizzano e al corso per esprimere i desideri che si realizzano. Se già ce li hai, riguardali. Se non ce l'hai, puoi trovarli qui sotto. Sarà fondamentale perché un desiderio ben formulato sarà un desiderio realizzato. Questa settimana il lancio del desiderio è quello che dovrai fare. Perché? Perché sei un magnete di luce potente. Ama la tua vita dei sogni. Questa carta ti dice che la legge dell'attrazione sta diventando potentissima nella tua vita. Quello che pensi si manifesta più velocemente del solito. Usa questo grande potere per creare la vita dei tuoi sogni. Esprimi desideri sul luogo in cui vuoi vivere, con chi vuoi vivere, che mestiere svolgi, quanto sei felice. Sforzati questa settimana di pensare e desiderare soltanto ciò che veramente è caro il tuo cuore. Perché quello che pensi si manifesta velocissimamente. Ok? Mazzetto numero 3. 1, 2 e 3. Il focus. Questa settimana il tuo focus dovrà essere ben posizionato. Dove? Men sana in corpo re sano. Quindi, non solo testa, non solo corpo, mente e corpo sarà fondamentale. Perché? Perché quando il corpo e la mente sono allineati, tu diventi potente. Quindi, mi raccomando, questa settimana il tuo focus dovrà essere nell'equilibrio tra il prenderti cura del tuo corpo e il prenderti cura della tua mente. Quindi, anche saper bilanciare i vizi, gli stravizi, o se invece sei troppo rigida, eccetera, cerca di trovare un equilibrio che faccia bene sia al tuo corpo che alla tua mente. Magari fai delle belle passeggiate, allenati un po', se ti vuoi concedere un gelato, ok, lo fai, no? Però deve essere un'armonia, devi sentirti bene, coccolati, ma allo stesso tempo, cioè nel senso che nessuna cosa deve pesare poi sulla tua mente, oppure non devi essere troppo pigra, devi trovare il giusto equilibrio. Questo è fondamentale. Infatti, si deve risvegliare la tua parte divina. La tua parte divina ti collega a tutto il creato. Sarai baciata dal divino e avrai la possibilità di vivere momenti di pura estasi. Percepirai l'unità, la matrice di tutte le cose. Ti sentirei chiamata ad aiutare il pianeta Terra. Potresti diventare portavoce dell'importanza della tutela ambientale, fare volontariato per gli animali o aiutare gli altri. Non importa cosa farai, l'importante è che tu agisca in modo tollerante e amorevole con tutte le creature che incontri sul tuo cammino. Perché ricorda, siamo tutti uno. Recap. Allora, se avevi scelto il mazzetto numero uno, sarà una settimana dove la felicità busserà alla tua porta. Ma devi carpire il segreto della felicità ed è nel trovare felicità intorno a te. Perché ce n'è molta più di quanto pensi. Soprattutto se stai vivendo un periodo in cui pensi di non essere felice o che le cose non vadano. Il segreto sarà proprio nello specchiarti nella tua vita e trovare felicità. Mazzetto numero due. Lancia desideri potenti. Tu sei un magnete di luce potente. Puoi attirare tutto quello che vuoi se sai come lanciare un desiderio. Privo di mente che lo blocca. Ricordati che con i desideri è una sorta di formula matematica. Sicurezza che si realizzerà, si realizza. Dubbio, si realizza lento. Super dubbio, non si realizza. Cioè, veramente il desiderio, se non ci credi tu, non si può realizzare. Non funziona. Va contro le leggi universali che dici, vabbè, la butto lì se si realizza bene. Non c'è l'intensità giusta. Quindi, fondamentali. Terzo, importantissimo, farei un'esperienza mistica, qualcosa di veramente potente e divino. E per riuscirci dovrai lavorare sulla mente e sul corpo, perché se no non ce la farai a contenerla. Quando si hanno delle esperienze davvero, davvero potenti e intense, il corpo deve stare in un certo modo, la mente deve stare in un certo modo, perché se no sfuma, non ce la fa. Il corpo potrebbe stancarsi troppo, la mente potrebbe spaventarsi, eccetera. Bisogna stare in un certo modo, soprattutto se state lavorando con tecniche elevate, come il channeling, i registri akashici e altro, dovete lavorare tantissimo sull'allineamento di mente e corpo. Se no non potete essere quel canale di luce potente necessario a far scendere un certo livello di energetico, ok? Quindi mi raccomando, preparati a diventare un canale perfetto e ad avere un'esperienza col divino. Se non sei iscritto al canale YouTube delle leggi della magia, fallo subito. Se questo video ti è piaciuto, regalaci un like. Grazie e a settimana prossima con la lettora. E in questa settimana, in giro qua sul canale YouTube e su tutti i social per altri video. Tanta luce, ciao!